Il nero è un colore classico. Ha la peculiarità di assorbire completamente la luce senza rifletterla. Al nero si associano diverse tipologie di sensazioni. Da un lato è in grado di trasmettere forza e potere, quindi anche eleganza, formalità, serietà e raffinatezza. Non per niente viene utilizzato nel mondo dell'abbigliamento anche per le toghe degli avvocati e dei giudici. Al tempo stesso invece il nero può anche essere associato all'oscurità, quindi al buio, al mistero, a qualcosa di incognito che noi non conosciamo. Negli ambienti e nell'arredamento il nero viene spesso associato al bianco per trasmettere grande dinamicità ed eleganza e supporti sul quale viene applicato.